hello children good morning ciao bambini buongiorno questo di oggi non è una video lezione ma soltanto un video per salutarvi e augurarvi una buona estate mi raccomando riposatevi divertite e un pochino ripassate inglese e anche tutte le altre materie una cosa importante che vi voglio dire è tutte le attività che abbiamo fatto in questo periodo da casa quindi tutte le video lezioni che vi ho mandato le troverete anche durante l'estate nella mia pagina youtube marco burla scuola quindi quando volete ripassare qualcosa che non vi ricordate bene o se state facendo i compiti delle vacanze e non vi ricordate come si scrive una parola o avete delle difficoltà o anche soltanto se avete voglia di vedere i video per per piacere ricordatevi che potete sempre trovarli su internet mi dispiace che quest'anno per colpa di questo virus ci siamo potuti conoscere poco e stare poco insieme speriamo di rifarci l'anno prossimo intanto vi auguro ancora una buona vacanza a tutti voi e alle vostre famiglie see you soon and bye bye ci vediamo presto ciao ciao